Spose in love, sesta fiera dei servizi per il matrimonio, la coinvolgente chermesse del mondo del matrimonio ha aperto le porte della sesta edizione. Al taglio del nastro erano presenti con Alessandro Lanzafame, direttore generale di Eurofiere, il senatore Antonio Scalone, l'ostimista Gino Signore e l'editrice di White Sposa, Simona Polli. Alessandro Lanzafame, direttore di Eurofiere. Con Alessandro Lanzafame quest'anno una novità, la Notte Bianca è stata rinominata la Notte delle Sfilate. Diciamo che la Notte Bianca è la notte delle sfilate sostanzialmente, è una notte in cui a partire dalle 19.30 si alterneranno in questa bellissima area sfilata e su questa passarella sfileranno le collezioni degli atelier e degli stilisti che sono presenti in fiera, che presenteranno in anteprima sposi l'ovul la moda sposa 2016-2017, quindi in questo senso è un appuntamento che tutte le coppie future di sposi aspettano tantissimo perché chiaramente qui si vedono le anteprime degli abiti e delle tendenze che saranno. Avete più volte pubblicizzato, ti regaliamo un matrimonio, come funziona? Questa è la chicca che abbiamo fatto l'anno scorso, che ha avuto un grandissimo successo, che chiaramente stiamo ripetendo, l'evento si concluderà domenica, chiaramente per partecipare a tutto questo bisogna che le coppie vengano in fiera, c'è un desk dove una ossa si spiegherà come partecipare e poi domenica sera verrà la consegna di questo regalo che è stupendo perché comunque effettivamente regaliamo un intero matrimonio ad una futura coppia di sposi e già l'anno scorso abbiamo reso una coppia felice in questo senso. Un bilancio sulla manifestazione di quest'anno? Siamo molto soddisfatti, anzi devo dire anche sorpresi, soprattutto per giorni infrasittimanali che si sa chiaramente poi sono quelli dove comunque la gente lavora, ma abbiamo avuto un flusso di pubblico soprattutto interessato, che poi è quello che chiaramente ci fa più piacere perché le aziende vengono qui per questo, abbiamo avuto il sito impasato dove è possibile scaricare l'invito maggio e prevediamo chiaramente di chiudere in bellezza con un sabo di una domenica dove credo che supereremo le previsioni e le aspettative di pubblico sia in riferimento a questa edizione ma soprattutto in riferimento all'edizione precedente. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Dottore, il significato del commercio per il Sud? Il Sud ha bisogno ancora di tante spinte però io ritengo che c'è un nuovo fermento, c'è un nuovo entusiasmo, gli imprenditori hanno tratto da questa lunghissima crisi spunti il nuovi, hanno capito che le attività tradizionali non ricevono più il mercato e il cambiamento e quindi c'è stata una grande innovazione in tutti i settori merceologici e che ha portato l'imprenditore l'imprenditore ad investire su se stesso, sul prodotto, sui servizi e questo sta cambiando totalmente il mercato e si sta tra virgolette uniformando quelle che sono le richieste del mercato e le esigenze di un consumatore che è profondamente cambiato, è profondamente diverso rispetto agli anni passati. Voi vi occupate anche di matrimoni provenienti dall'estero, cosa chiedono chi viene dall'estero nei matrimoni qui fatti in Sicilia? Noi soprattutto curiamo i matrimoni con persone che vengono dall'estero, c'è il Wending Destination chi viene qui vuole tanta sicilianità, quindi vuole un'ambientazione speciale, particolare vuole conoscere i nostri prodotti, i nostri posti incantevoli, i nostri paesaggi, il nostro mare quindi vuole tanta sicilianità e noi dobbiamo essere pronti a dare questa sicilianità in maniera speciale in maniera molto professionale e soprattutto interpretando quello che è il trend del momento che sta facendo impazzire le spose di tutto il mondo che è il country noi riusciamo attraverso un territorio meraviglioso a riportarli in un country estremamente elegante estremamente chic, estremamente particolare e soprattutto estremamente siciliano Ritorna a grande richiesta dal 9 al 13 novembre Sposi in Love, evento glamour del mondo degli sposi una fiera ancora più grande a disposizione dei promessi sposi per scegliere tutto ciò che necessita per il grande giorno la location, il catering, le partecipazioni, i fotografi, gli abiti, la musica, il loro viaggio speciale e perché no, anche come arredare la loro casa, il meglio del classico e del moderno è stato un po' di più la vostra scena è stato un po' di più No 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 Grazie per la visione!